Buonasera ai miei amici ascoltatori, siamo qui riuniti per una nuova puntata della ruota della sfortuna. Io sono Mike Buonanotte per chi non lo sa e Paola Banane purtroppo è ammazzata quindi farò io il balletto. Allora, questo è il primo concorrente, Fabio Scorrentolini, nipote di un giocatore che ha giocato con noi molti anni fa. Giri la ruota! Complimenti, lei ha vinto 200.000! La R di Roma! Allora, la R di Roma ce n'è una e quindi per lei sono 200.000! Giri la ruota! Due giri! Allora, lei ha preso 200.000 anche lei! Una R di Mantua! Allora, M di Mantua ce ne sono, allora... C'è un po' la soluzione! Prego! Ma va mori ammazzata! A me! Ma guarda che la delucia era! La soluzione! Ah, bravo, bravo, grazie, bravo, me l'ho ricordata! Allora, la soluzione è... Ma va... Mori ammazzata! Capito? Ecco, questa è una grandissima soluzione! E lei vince tutto il nostro bottino! Questo è 15.000.000! Grazie, grazie! Allora, ora faremo la seconda manche! Prego, tocca a lei, visto che è il vantaggio... Siete come distrugge tutto! Allora, lei ha vinto 20.000.000! Allora, C di Como! L'argomento è già tra cartoni, la C... Ce ne sono due! Tocca a lei! Quanti minuti di te! C'è la nuova! La P di Porco! Allora, ce ne sono due! Partoni! Due! Prego, a lei i suoi! Adesso, Gini è ancora lei! La roma è tua... Ah, io è cartoni! Allora! Eh... Vuoi provare dalla soluzione? Eh, no! No, ha girato la ruota! È vero, lei è un po' sfortunato! Lei ha 15.000.000! Quindi potrebbe anche comprare una vocale e poi dire soluzione! Ha già girato la ruota! Eh, la metta! Scusi! No, eh, eh! Fatemi dire! Dica questa bellissima consonante! Scusi, ma ha un po' di raffreddore il nostro camera! Ci vuoi! Posso amare perché... Tocca a lei! No, la soluzione! Ma proprio lei vuole stravincere tutto questa sera! Sì! Sì, lei! Prego! Chip e Chop! Bravo! Ha vinto tutto! Gira la ruota Gira la ruota Ecco Ora è il momento della finale Ed ora per il nostro concorrente Il premio di consolazione Faboloso di radio degli Happy Days Ma allora andiamo al punto Della super soluzione Per vincere la nostra fantastica Bicicletta rossa Graziella Allora mi dica tre consonanti e una vocale C, Z, Y, H O Allora Diciamo che ce ne sono Solamente due La C E la O Allora gli ricordo che questa frase È composta da un nome E in più un numero Di un antico re francese E lì avrà 15 secondi di tempo Cioè lei Per dire questa soluzione Via Ti 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 Ti